Perchè hai... Oh, scelto proprio un bandico! Chissà, magari con un bombato sarebbe andata diversamente! Bra, bombati! Questo bandico è forte, intelligente e soprattutto le ali! nih... Grazie! Papapà-rà-rà-ràpà-rà-rà-rà-rà-rà-rà! che belli caricamenti di questo gioco sono i miei preferiti madonna non vedo la di giocare la playstation 5 voglio voglio giocare il gioco più pesante e vi giuro su dio al primo caricamento bestemmio ma va Luca ma va ma sei pazzo ma io al pazzo dai ce la facciamo ce la facciamo allora perché hai scelto proprio bandicoot chissà magari con un bombato sarebbe andata diversamente ma combattiti questo è il liquide forte intelligente e soprattutto leale e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Ai... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai! Dai! Grazie a tutti. 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 Come... ... 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 ...... ... 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 Scorpion... eh, questo livello è veramente tossico, concordo concordo, concordo ma non credo nemmeno sia il peggiore, sai? ma tu sarebbe andata diversamente no, 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 no no, 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 no no, 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 no Sì 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 Ogni volta che muoio vi giuro sono 27 giorni di caricamento che palle Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.